Vicisindaco Angelo Marcone, al via i lavori per la realizzazione delle scogliere, parliamo della zona di Colonia Spiaggia e parliamo soprattutto di un importo di 500 mila euro. Sì, sono partiti tanto attesi i lavori per le scogliere di Colonia, è un intervento che i coloniesi ma anche tutti gli operatori turistici della zona chiedevano da molto tempo. Per tanto tempo sono stati fatti degli interventi di ripascimento morbido che non sono stati assolutamente sufficienti, ad ogni mareggiata infatti la spiaggia veniva puntualmente cancellata. Con questo intervento si punta appunto a risolvere questo annoso problema e ovviamente sarà uno degli interventi programmati e colgo l'occasione anche per ringraziare Regione Abruzzo e il lavoro svolto dal sottosegretario Danuntis che ha permesso di avere alla città di Roseto questi fondi. Probabilmente dopo l'estate saranno attenzionate sia la zona nord di Roseto, quindi zona Lido d'Abruzzo, zona camping nord di Roseto e la zona sud dopo il Pontide che anche lì ha delle problematiche inerenti alla sabbia.